Voglio cominciare questo nuovo video messaggio dicendo grazie, grazie di cuore a tutti quelli che mi stanno dando una mano, a tutti quelli che stanno contribuendo alla riuscita di questo progetto, a tutti quelli che mi stanno scrivendo, telefonando, che in qualsiasi modo stanno manifestando il loro sostegno a questa iniziativa, un'iniziativa che è volta a rompere con il passato e ad offrire a questa città, a Trani, una nuova speranza. Quindi grazie, grazie di cuore. Oggi qualcuno di voi vedrà, e anche nei prossimi giorni, capiterà di vedere sulle nostre strade, in particolare in due punti, alle spalle della Giustina Rocca, su Lungomare e su Via Imbriani, poco dopo i Carabinieri, due manifesti, i manifesti 6x3, cosiddetti poster manifesti giganti, manifesti che annunciano anche in modo visivo, attraverso appunto una comunicazione stradale, la mia candidatura a sindaco. Due manifesti che propongono un messaggio, il coraggio di sfidare il sistema, che non è il mio coraggio, o quantomeno non soltanto il mio coraggio, ma il coraggio di tutti quelli che stanno partecipando, che ci stanno mettendo la faccia e che vogliono davvero contribuire al cambiamento. Questo è il primo modo con cui abbiamo deciso di presentarci alla città. Abbiamo deciso di farlo con questi due manifesti giganti perché riteniamo che ci sia bisogno di farsi conoscere, ci sia bisogno di far arrivare a quanta più gente possibile il nostro messaggio. Ovviamente i social network non bastano, come non bastano gli incontri pubblici per strada, bisogna cercare di sfruttare tutti gli strumenti a disposizione e indubbiamente quello dei manifesti è uno strumento importante. Però vogliamo dire una cosa a questo proposito, voglio dire una cosa. Io da quando ho iniziato questa avventura ho posto tra le mie priorità, tra le priorità di quella che sarà eventualmente ai tranesi piacendo la mia amministrazione comunale, ai primi posti c'è la lotta al accidentalismo e la trasparenza. Abbiamo parlato di trasparenza. Trasparenza che comincerà sin da questa campagna elettorale. Noi vogliamo essere chiari con i cittadini, vogliamo dire tutto, anche quanto spenderemo per questa campagna elettorale. Già immagino i soliti vigliacchi che dietro un falso nome sui forum dei siti internet cominceranno a scrivere che dicevano che non avevano soldi e invece i soldi ce li hanno, hanno affisso dei manifesti giganti. Allora noi vi diremo, ve lo diciamo subito, ve lo dico subito quanto abbiamo speso per questi manifesti e quanto spenderemo per i prossimi manifesti. Allora intanto dovete sapere che il prezzo di mercato di un manifesto di quel genere, di un 6x3, prendendo lo spazio da un'azienda privata è di 150 euro per 14 giorni, un singolo spazio. Bene, noi abbiamo deciso di non rivolgersi ad un'azienda privata ma di rivolgersi al comune perché il comune ha degli impianti, pochi ma ne ha. E quindi siamo andati al comune che ha un prezzo agevolato che è di 77,32 euro ad impianto per 14 giorni. Quindi sostanzialmente quei due impianti che noi abbiamo preso costano poco più di 150 euro. Mentre la stampa di un singolo manifesto, di quei manifesti lì, costa 35 euro e quindi abbiamo speso 70 euro. Quindi complessivamente per affiggere quei manifesti abbiamo speso all'incirca 220 euro. Ovviamente non abbiamo preso soltanto quelli, abbiamo pensato anche al resto della campagna elettorale. Complessivamente abbiamo deciso di opzionare, compresi due già utilizzati a partire da oggi, nove spazi. Quindi nove spazi dal comune abbiamo speso esattamente per questo, ve lo faccio vedere, questo è il bollettino del comune, il bollettino che abbiamo pagato, 695,88 euro. Quindi per nove spazi, vi ripeto, ognuno di 14 giorni abbiamo speso 695,88 euro. E per la stampa dei manifesti ne stamperemo soltanto 5 perché alcune posizioni restano invariate e quindi abbiamo bisogno solo di 5 manifesti per coprire questi nuove spazi, spenderemo 175 euro. Quindi 695,88 più 175 fanno 870,88 euro. Questo è quanto spenderemo complessivamente, perché non ne prenderemo altri, per i manifesti che affiggeremo prima dell'inizio della campagna elettorale. Perché come forse alcuni di voi sanno, quando incomincerà la campagna elettorale non si potranno più usare quegli spazi, ma soltanto i manifesti che vengono affissi nelle cosiddette planche, gli spazi proprio dedicati alle affissioni elettorali. Quindi spenderemo su questa cifra qui 870,88 euro. Questa somma l'ho messa di tasca mia, perché il mio contributo alla campagna elettorale, mia e del movimento Trani a Capo di tutti, di tutte le liste che faranno parte della nostra coalizione, che andremo a formare nelle prossime settimane, sarà di 1000 euro, non un euro in più. Perché questo? Perché come abbiamo detto in più occasioni, noi non abbiamo finanziatori e né li vogliamo. Accettiamo dei contributi, perché una campagna elettorale è costosa, quindi accettiamo dei contributi piccoli, alcuni li stanno già versando, hanno già dato il proprio contributo, chi 10, chi 15, chi 50, chi 100 euro, piccoli contributi per permetterci di fare il minimo indispensabile per farci conoscere e per accogliere appunto i fondi necessari, ma senza eccedere. Abbiamo posto un tetto, anche su questo qualcuno ha ironizzato, perché io nella prima conferenza stampa ho detto che accettiamo contributi fino ad un tetto massimo di 1000 euro, che non significa che andremo in giro a chiedere 1000 euro alle persone, significa che abbiamo posto un tetto. Esempio, se un imprenditore, un professionista, una persona che ha una capacità diciamo economica di spesa notevole, dovesse avvicinarsi a noi, dovesse dirci di credere nel nostro progetto di voler contribuire, se questa persona dovesse venire da noi e dovesse dirci voglio darvi 2, 3, 5 mila, 10 mila euro, cosa che succede nelle campagne elettorali, noi non li accetteremo, noi potremmo accettare fino ad un massimo di 1000 euro. Perché questo? Perché noi non vogliamo essere debitori nei confronti di nessuno. Diremo grazie alle persone che contribuiranno alla nostra campagna elettorale, che ci metteranno a disposizione qualsiasi cifra, ma non vogliamo essere debitori e riteniamo che entro i 1000 euro non sia necessario, non si diventi debitori di qualcuno. Così come diciamo sempre che non abbiamo padroni né padrini, non vogliamo neanche finanziatori, non vogliamo gente a cui dover restituire qualcosa. E io stesso, io stesso non voglio assolutamente investire in questa campagna elettorale, io non devo investire, come spesso succede, lo sapete benissimo, io non devo recuperare niente, quindi io sto dando un mio contributo, non è un investimento, non ho intenzione, a parte che non ho grandi capacità economiche, ma non voglio andare a chiedere soldi in prestito per poter fare una campagna elettorale. Quindi quello che mi sento di dare è un contributo, anch'io in quanto candidato sindaco, e darò il contributo massimo, che è di 1000 euro. Questi soldi li abbiamo consumati già in parte, 870,88 euro per questi manifesti. Avanzano 129,12 euro, faremo qualche possibile con quei soldi e poi con quelli, naturalmente, cercheremo di raccogliere altri piccoli contributi. Tutto questo perché vogliamo essere trasparenti. Presto, nei prossimi giorni, sarà online un sito internet che racconterà il nostro progetto. In questo sito internet, oltre alla possibilità, oltre a conoscere le modalità per contribuire, ci sarà anche la possibilità di vedere i contributi che stiamo raccogliendo e le spese che stiamo effettuando, nella massima trasparenza, perché questo è quello che vogliamo fare, se ci darete l'opportunità di andare ad amministrare questa città. Questo è quello che sentivo di dirvi, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata. Ciao!